Sono a disposizione, sono a disposizione, intanto sono tornato al mio lavoro. Guardate la più bella cosa per un amministratore è avere un lavoro che l'attenda, proprio perché ti rende anche libero. Il suo non è un addio alla politica, ma un arrivederci. Fabio Bui ha appena concluso il suo mandato da presidente della provincia di Padova ed è tornato al suo lavoro, ma ricorda con entusiasmo gli oltre vent'anni trascorsi ad amministrare il comune di Loreggia e la carica più alta di Palazzo Santo Stefano. Tra le soddisfazioni più grandi aveva risolto la vicenda delle fonderie Anselmi di Campo San Piero, che rischiavano di chiudere. Abbiamo salvato i posti di lavoro, lì assieme ad altri sindaci, soprattutto al sindaco di Campo San Piero, ricordo che eravamo saliti sul tetto della fonderia ed eravamo rimasti lì alcuni giorni, fino a quando la situazione si è sbloccata. Sembrava un'azienda cotta ed è cotta e stanno ancora lavorando, anzi stanno rinvestendo. Tra i rimorsi invece non aver risolto il nodo pedemontana Val Sugana per l'Alta Padovana. Se noi non mettiamo mano a quei due corridoi viari verso l'Europa, questa è una provincia che rischia la marginalizzazione dal punto di vista economico. L'area di Padova Est, oggi, dove sorgerà fra qualche anno il nuovo presidio ospedaliero di Valenza internazionale, se non ha una strada che lo colleghi, sarà il disastro viario assoluto. Ora, tra i nomi più papabili come suo successore in provincia, c'è quello di Sergio Giordani, sindaco di Padova, appena rieletto. Il mio successore è quello che saprà raccogliere questa sfida di tenere tutti i sindaci uniti, al di là delle differenze di partito. Giordani ha tutte le carte di regola e io mi auguro che sia lui.